Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziaggio di canale 81 e andiamo insieme a vedere le notizie del giorno. Apriamo dalla cronaca, si è lanciato dal terzo piano e evitato la cattura, latri acrobati in azione ieri sera in una palazzina di via Lorenzo Bonincontri nel quartiere di Tormarancia. L'allarme è scattato dopo le 10 di sera per il furto nell'abitazione di una donna deceduta tre mesi fa. I latri avevano citofonato a tutti i campanelli della palazzina per farsi aprire il portone e poi sono entrati nell'immobile incustodito. All'arrivo delle forze dell'ordine sono lanciati dal balcone. Poi continuiamo, sono 99 le violazioni rilevate dalla polizia locale di Roma Capitale nell'ambito dei controlli alle limitazioni al traffico predisposti per la domenica ecologica. Nel corso della prima parte della giornata, nella fascia oraria 7.30-12.30, sono state oltre 800 le verifiche eseguite dalle pattuglie. I controlli proseguiranno nella fascia, hanno proseguito una fascia pomeridiana prevista dalle 16.30 alle 20.30. E poi continuiamo, rifiuti ingombranti, il tema sul tavolo del Campidoglio, ancora troppi per le strade o abbandonati in mezzo alle erbacce, tanti lungo le rive del Tevere o in mezzo al verde nei posti più impensabili. Molte anche le richieste che arrivano al servizio rifiuti per ritirare lavatrici, lavastoglie, divani ma anche reti e materassi nelle case. Anche per questo il Comune di Roma, insieme ad Ama, ha deciso di potenziare il servizio. L'obiettivo è triplicare rispetto al 2023, le giornate di raccolta di rifiuti ingombranti. E poi vediamo invece al turismo nella capitale, nell'Uovo di Pasquale del 2024. Roma trova quasi il 7% di turisti in più rispetto all'anno scorso. In cifre si parla di 461.500 persone che nei prossimi giorni di festa visiteranno la capitale, trascorrendoci tra le 2 e le 3 notti. Un record assoluto per il periodo, dicono, dal Comune. E poi vediamo la giornata di ieri. Italia e Germania insieme per rendere omaggio ai martiri delle fosse Ardeadine. Ieri mattina, 24 marzo, in occasione dell'ottantesimo anniversario della strage, la ministra tedesca per la cultura e i medi Claudia Roth e il ministro della cultura Gennaro San Giuliano si sono regate al mausoleo delle fosse Ardeadine per deporre una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa dell'Ecidio. Un appuntamento a cui hanno preso parte anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lolo Brigida, e il generale Diego Poli. E con questa notizia noi concludiamo il nostro notiziario, come sempre grazie per essere stati con noi e vi rimando ai prossimi appuntamenti.